... Incontro Antonio Coniglio, già assessore alla cultura al comune di Ascireale. Senta Antonio Coniglio, io vorrei un attimo uscire fuori dalla strettissima attualità. Strettissima attualità intendo dire candidature, liste, coalizioni e la questione giudiziaria. Usciamo fuori da questo aspetto per i minuti che abbiamo e cerchiamo di capire una cosa. La prima che desidero chiederle è questa. Che città lasciamo? Che città abbiamo in questo momento? Com'è la nostra città? Io penso che noi abbiamo una città che ha iniziato dei percorsi, che sono dei percorsi pure molto positivi. Qualche giorno fa c'è stata anche una fotografia per esempio sulla differenziata. Si sono aperti in questi anni una serie di cantieri. Sono stati anche commessi degli errori perché in politica si fanno cose positive e altre meno positive. Io penso che comunque l'esperienza della programmazione, l'esperienza di un bilancio, che è un bilancio solido e che è stato uno strumento economico finanziario volto alla programmazione, alcune attività di animazione della città inserite all'interno di un ragionamento complessivo. Ecco, io penso che dei passi in avanti siano stati compiuti. Dunque non è una città dissestata. Certo è una città che è scossa, una città sgomenta, come giusto assolutamente che sia. Oggi, e mi riallaccio alla premessa che ha fatto, è molto positivo che, più che parlare di nomi, perché non abbiamo molto bisogno di uomini della provvidenza, anche perché non ne esistono sfortunatamente, il grande tema è quello di costruire piattaforme programmatiche, poi a prescindere da chi le faccia, costruire cori, non solipsismi. La città ha bisogno, questo sì, di composizione, di organizzazione, di mediazione e che le forze politiche, che hanno il dovere della proposta politica, non il dovere di vincere, ma il dovere di convincere, questo sì, si mettono di buona lena nel recupero del rapporto transitivo con pezzi di città che si fanno carico, insomma, dei percorsi ideativi, dei percorsi di inclusione. Senta, Antonio Coniglio, ma, diciamo, quell'architettura politica che abbiamo visto, che vi ha portato a vincere le elezioni e poi a governare, si è conclusa? O è rimasto qualcosa? Si è frammentata? È rimasta compatta com'era? Ma io penso che quella piattaforma programmatica abbia reso alla città tutta una serie di cose. Innanzitutto il metodo, il metodo della programmazione, che era un punto centrale del nostro programma elettorale, il fatto che tutta una serie di scelte che abbiamo compiuto nel merito in questi anni siano fatti assolutamente da rivendicare dal punto di vista della dignità politica. Io, per esempio, da assessore al turismo alla cultura, certamente rivendico l'esperienza del recupero della cittadella del carnevale, piuttosto che la fiera dell'Oione o incendio, ma non voglio fare l'elencazione dei propri meriti o dei propri demeriti. Non c'è dubbio che questa esperienza politica non può essere liquidata con un colpo di spugna, ha un patrimonio dal punto di vista delle cose fatte che va rivendicato e che poi, se rivincerà un gruppo politico, le porterà avanti. Se ne rivincerà un altro, probabilmente le continuerà a portare avanti in forma diversa, con scelte diverse. Antonio Coniglia, vediamo se mi sbaglio. Mi sembra che in questo state mantenendo un profilo basso, non state facendo nomi, state aspettando di vedere come si muovono le cose, però due nomi magari glieli faccio, vediamo quale potrebbe essere il suo gradimento. Sebi Leonardi e o Francesco Fighiera. Lo ripeto, non voglio tradire la premessa che ho fatto. Io ritengo che questa discussione intorno ai nomi, a prescindere da chiunque sia il nome, i nomi che sono stati fatti sono due persone che hanno caratteristiche diverse, uno ha fatto parte della mia giunta politica, ma il punto non è il nome. Il punto è la piattaforma e poi il nome è il punto finale, è la punta dell'iceberg. Quando invece si parte dai nomi, non credo che questo sia il percorso giusto da compiere, anche perché si rischia di poi inseguire le motività. Mentre lei ha avuto riscontri rispetto all'azione culturale, all'intervento alla cittadella, insomma alla fine ha avuto riscontri anche dei parti di elettori che non l'hanno votata. Lei si è tirato fuori da questa possibilità. Guardi, io faccio politica praticamente da quando sono bambino, ho visto che c'è per esempio il candidato sindaco Nicotra e io nonostante allora fossi veramente, muovessi i primi passi, andavo a vedere quei consigli comunali, quindi immaginiamo da quanti anni. Quindi sono giovane, ma sono anche un giovane, tra virgolette, vecchio. Io non mi dimetto certamente dalla politica, perché la politica è un modo di intendere la vita. Uno pensa politico, scrive politico, anche lei fa politica, tutti noi facciamo politica. Il governo è una delle cose che capitano ad uno che fa politica. Io ho fatto un'esperienza bellissima, un'esperienza straordinaria. La città mi ha dato l'onore di governarla. È stata però anche un'esperienza che ha occupato intere giornate. Ecco, io penso nei prossimi anni di potermi impegnare. Cercherò di dare un contributo politico o pre-politico, perché questa città ha pure bisogno di una dimensione pre-politica. Escludo certamente una candidatura a sindaco, ma per una regione molto concreta, per un fatto personale, perché io se mi candido a qualcosa nei prossimi anni spero di candidarmi a fare tra qualche anno l'avvocato. Ecco, questo sì. Bene, ringraziamo Antonio Coniglio per la conversazione. Buonasera, te e grazie. Grazie. Grazie.